Una cinquantina di persone che ha ottenuto un risultato davvero importante ripulire un ampio tratto di argine della golena di Pollesella, ma anche di parte delle vie del paese dai rifiuti che gli incivili abbandonano. Rifiuti di ogni genere, plastici e non, inclusi tubi, un water e una bicicletta. L'iniziativa promossa dalla sezione locale Displastic Free con il sostegno dell'amministrazione comunale ha riscosso un'ottima partecipazione. Molte anche le famiglie con i bimbi che hanno voluto prendere parte a questa bella iniziativa. Il ritrovo era alle 10 sull'argine dove era allestito il banchetto per la registrazione. Poi i volontari muniti di sacchi, guanti e pinze si sono divisi in vari gruppi. Alcuni hanno preso la direzione di Santa Maura, altri quella opposta, altri ancora si sono diretti invece verso il paese.